Ciao a tutti, cari vinci del segno del Capricorno, eccoci qui con il vostro rosco e le vostre previsioni per il mese di maggio 2022, ben ritrovati, se vi va iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche, quindi cliccate sulla campanella in alto a destra e mettete su tutte per non perdere i miei prossimi aggiornamenti e condividete se vi va ovviamente questi video sui vostri social, ok? Benissimo, vi ricordo che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti, per quali sono i miei consulti privati di Cartomanse, vi lascio qui sotto tutto nel box informazione, benissimo, incominciamo nel pescare la prima carta per le energie di questo mese di maggio, per voi del Capricorno, vediamo un attimino, guardate che bella questa carta, spero che la vediate bene, vediamo eh, per il Capricorno cosa accadrà durante maggio 2022, seguire i propri sogni, benissimo, carta numero 36, avete un sogno nel cassetto? Aprete quel cassetto e cercate di inseguirlo con tutti i mezzi che avete a disposizione, seguite le vostre passioni, seguirete le vostre ambizioni, quindi sarà un mese molto molto interessante, quindi partiamo bene, proprio per inseguire le vostre strade ma anche il vostro successo, ok? Quindi interessante questa cosa eh, guardate che bella questa carta che ho creato io, andiamo avanti con i tarocchi di Dore in Virtue, cosa voglio non dirvi? Amplirete comunque gli orizzonti, amplirete comunque la vista, vorrete guardare lontano eh, questa è una cosa interessante e quando vi siete messi in testo un qualcosa, magari proprio durante questo mese, qualcosa magari si andrà a realizzare. Il Mago, infatti è tempo di manifestazione, Arcangelo Raziel, il Mago, carta numero 1, la carta dei nuovi inizi, sei pronto, vi dice questa carta, hai risorse e le capacità per manifestare i tuoi sogni, 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 qua potreste anche fare dei sogni pre-monitori durante questo mese di maggio. La vita è magica, ogni 70 comunque in erogia ci sarà manifestazione, ok? Potrebbero esserci delle novità in campo amoroso, di amicizia, familiare, un nuovo lavoro, un avanzamento, sogni che si realizzano, traguardi realizzati, un nuovo ciclo nella fase della vostra vita. Invocate se vi va anche l'Arcangelo Raziel, ok? Avete tutti comunque gli strumenti a vostra disposizione per intraprendere la vita che avete sempre desiderato, ok? Vediamo ora attraverso l'oracolo delle sfede della vita che cosa voglio dirvi le carte. Se volete acquistare i miei mazzi oracolari, troppe carte qua, se volete acquistare i miei mazzi oracolari vi aspetto sul mio shop online. Questa carta uscita è in bilico, quindi no, devo metterla dentro perché queste sono al dritto o al rovescio, ne serve una al dritto o al rovescio, per piacere, una carta al dritto o al rovescio, vediamo eh. Amici del capricorno. Guardate, inizio di un nuovo lavoro. Visto che qua poi è legato anche all'ambito dello studio, qua potrebbe esserci anche l'inizio di una nuova formazione, di qualcosa nell'ambito anche dello studio, però fondamentalmente la carta vi dice che c'è proprio un nuovo lavoro che inizierete. Quindi se avete mandato dei curriculum, se stavate aspettando delle domande, cioè scusate delle risposte, qua potrebbero essere proprio delle risposte positive per iniziare una nuova fase appuntista professionale. Quindi ottime notizie in questo caso per voi del capricorno. Ma per innalzare le energie vi consiglio di utilizzare anche questo olio essenziale che adesso andremo a vedere con questa carta. Utilizzatelo per tutto il mese di maggio perché sarà il vostro olio ad hoc. Ripetete la frase che adesso vi dirò per tutto il mese di maggio per più volte al giorno, amici del capricorno. Vediamo eh. Vediamo cosa, che olio essenziale potreste, dovete utilizzare. L'olio essenziale di rosmarino borneone che vi dice comunico in modo efficace e con energia. Ho fiducia in me stesso, sono motivato a osare. Quindi ci sarà tanta energia, ci sarà molta motivazione e andrete proprio incontro al vostro destino. Rischierete, oserete perché proprio è un mese veramente interessante questo di maggio 2022. Un attimino che metto a posto quale carte che stavano cadendo. Ok, quindi questo è il vostro olio essenziale da utilizzare magari anche in diffusione eccetera eccetera durante questo mese. Ma vediamo ora l'oracolo dei pensieri. Cosa vuole dirvi? Aspettate che lo vado a prendere. Eccolo qua, oracolo dei pensieri. Beh, è un mese molto molto bello questo eh, veramente molto molto bello. quindi approfittate di queste belle energie. Manca ancora un po' all'obiettivo. State lavorando e lavorerete ancora durante questo mese per raggiungere il vostro obiettivo. Sapete già quale sia comunque la strada migliore per arrivare proprio al vostro scopio, al traguardo tanto ambito. Ok? Lavorateci bene perché siete lì lì per arrivarci. Ma andiamo avanti con i tarocchi del Tagomene. Vediamo un attimino quale altro messaggio voglio darvi le carte. Vediamo. abbiamo la carta del Cavaliere di Bastoni. Allora, qui potrebbe essere un uomo o una donna dei segni di fuoco. Quindi Ariete, Leone Sagittario, portatore o portatrice dell'ascendente in uno di questi segni. Ovviamente non è detto che sia questa persona. Qua potrebbe essere qualcuno legato alla vostra sfera lavorativa e quindi legato a questo nuovo lavoro. Oppure anche all'ambito sentimentale, di amicizia, familiare. Bisogna vedere un attimino la vostra situazione personale. Però, se questa figura invece siete proprio voi. Ok? Guardate che bella questa immagine ricca di fuoco, di movimento, di carica, di energia. C'è perseveranza. Quindi sicuramente andrete in azione. Ok? E ci sarà proprio un evento molto molto rapido che vi accadrà. Ovviamente sarà un evento positivo. Ok? Quindi dovete anche approfittare e acchiappare al volo queste nuove opportunità che giungeranno voi, comunque si paleseranno voi, proprio durante questo mese di maggio. Ok? Quindi c'è manifestazione, c'è comunque energia, ci sono nuovi inizi, questi sogni che sicuramente potranno essere realizzati. Poi, come ho detto poc'anzi, lavorate maggiormente anche su voi stessi, innalzate le energie anche attraverso l'utilizzo dell'oro di rosmarino officinalis borneone. Mi raccomando, perché rosmarino officinalis non significa niente, questo in questo caso è il chemotipo che rappresenta il costituente chimico principale di quell'olio. Quindi se volete acquistare in erboristeria questo olio biologico, mi raccomando, deve essere naturale al 100%, chiedete di questo rosmarino borneone. Eccolo qua. E ripetete più volte al giorno questa frase, che comunque vi aiuterà moltissimo durante questo mese. Ok? Benissimo cari amici, questo è il vostro oroscopo per questo mese di maggio. Ciao a tutti e alla prossima!